Il treno alta velocità Frecciarossa 9470 di Trenitalia, delle ore 11.40 per Venezia Santa Lucia, è in partenza dal binario 6. Ferma a Bologna Centrale, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in testa al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno alta velocità Frecciarossa 9519 di Trenitalia, delle ore 11.42 per Salerno, è in partenza dal binario 15. Ferma a Roma Termini, Napoli a Fragola, Napoli Centrale. I livelli executive e business sono in testa al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno alta velocità Frecciarossa 9418 di Trenitalia, delle ore 11.45, proveniente da Fiumicino Aeroporto, è diretto a Venezia Santa Lucia, è in arrivo al binario 12. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Ferrara, Padova, Venezia Mestre. I livelli executive e business sono in coda al treno. Su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Attenzione! Si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Attenzione! Per motivi di sicurezza la stazione è sorvegliata da telecamere. I bagagli incustoditi saranno controllati dalla polizia ferroviaria. Il treno regionale, di Trenitalia, delle ore 11.46, per Orte, è in partenza dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, di Trenitalia, delle ore 11.46, per Fiumicino Aeroporto, è in partenza dal binario 5. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni. Ferma in tutte le stazioni. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. We're arriving in... Il treno regionale 21 7 6 4 di Trenitalia, proveniente da Fiumicino Aeroporto, è diretto a Orte, delle ore 11.50, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 21 7 7 1 di Trenitalia, proveniente da Fara Sabina, è diretto. È diretto a Fiumicino Aeroporto, delle ore 11.54, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Allontanarsi dalla linea gialla. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e 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 a tutti. 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 in. a tutti. 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 in. in. a tutti. 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 a tutti.